Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui da Martin Blecerchiato in questa nuova pass partita Allora, ieri sera abbiamo giocato in casa contro il Milan E ragazzi, abbiamo perso ma me lo aspettavo perché il Milan è una squadra forte adesso Perché nelle scorse partite ha sempre vinto, tranne nella partita contro l'Atalanta Allora, signori, ieri sera ha giocato il terzo portiere Vladimiro Falcone E non ha giocato male come sua prima partita, no no, ha giocato bene direi All'inizio del primo tempo, o nel quarto minuto, ha segnato anche con troppa facilità a Diozlatan Ibrahimovic In questo primo gol ci sono due contro Il primo è che Berezinski si è fatto fare il contropiede con troppa facilità E il secondo è, Collei, ma che cavolo fai? Cioè, tu sei il difensore, non capisci o no? Cioè, tu devi difendere le palle Cioè, sembrava che facevi così Oh, ma com'è bella la palla! Guarda, sta arrivando da Zlatan! Allora, insomma, questo primo tempo non ho niente da dire C'ho solo da dire che Falcone ha fatto delle ottime parate E bravo Falcone, un ottimo lavoro da portiere, veramente Allora, questo secondo tempo non mi è piaciuto per niente Perché? Perché avevamo tre ottime occasioni per segnare Allora, la prima è che Collei era davanti alla porta e alla solita testa quadra La seconda è che Janto, oppure lui, aveva la porta libera E poi potevamo segnare nel rigore di Maroni Però, Leris, nel rimpallo, dovevi segnare, il portiere era a terra Allora, poi ha segnato Ocalanoglu Che secondo me, quel gol era da annullare Perché secondo me, Cialanoglu aveva dato una manata a Vieira Però, per l'arbitro è regolare questo Io non sono molto d'accordo, eh Motivi personali, però Scrivetemi la vostra Scrivetemi la vostra Allora, poi ha segnato Ho una doppietta a Zlatan Ibrahimovic Che era davanti alla porta Quindi Falcone non poteva fare niente E il brutto è che purtroppo c'è al mio avversario Al fantacalcio E allora, poi ha segnato a Skilsen Il suo primo gol in carriera a Misa E ha fatto un ottimo inizio come sua carriera Sono molto felice per lui Anzi, felicissimo, direi E poi, per concludere in bellezza La vittoria del Milan ha segnato Leao Che poi ancora non ho capito chi stava telefonando Però, lasciamo stare Allora, ragazzi Parliamo un attimo di questo Leris Allora, innanzitutto Questo Leris l'abbiamo preso dal Chievo Verona Lo sappiamo Ma poi, non capisco perché Ma Ranieri lo fa sempre giocare Cioè, non ne fa mai una giusta Secondo me, questo Leris non merita la maglia più bella del mondo Scrivetemi la vostra qui sotto nei commenti Per Leris Allora, ragazzi Aspetta, zoomiamo un attimo Oh my god Ha segnato Oaskilsen con assist di Leris Incredibile Un miracolo Vabbè, a parte gli scherzi Ehm, niente Abbiamo perso O speriamo Nel Lecce La prossima partita E speriamo anche che il Genoa perda Contro il Verona Ehm Quindi Noi vogliamo il Genoa in bio Ovviamente Iscrivetevi al canale Lasciate like E ci vediamo in un prossimo video Ciao Ciao